3 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 19 19 21 22 22 19 20 24 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 26 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 nemico individuato il tempo è quasi scaduto andiamo la bomba la bomba è stata piattata bomba disinnescata abbiamo perso la battaglia ma non è finita cerca i distruggi veterano distruggete l'obiettivo abbiamo la bomba UAV online UAV nemico rilevato distruggiamolo ricognizione UAV in attesa in attesa in attesa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.